ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come un'inaspettata notizia sta facendo scalpore nel mondo della televisione italiana un ritorno misterioso un colpo di scena che nessuno si aspettava e proprio quando pensavamo di conoscere tutti i suoi movimenti luciana littizzetto ci sorprende ancora una volta dopo l'annuncio del passaggio in discovery con fazio la troveremo anche su mediaset da maria de filippi nella versione tu si che vales si avete letto bene luciana sarà uno dei giudici insieme a rudy zerbi gerry scotti e la padrona di casa stessa la sua cara amica maria l'annuncio di questa nuova avventura professionale ha scatenato dibattiti e curiosità lasciando tutti a bocca aperta vediamo più da vicino questa inversione di marcia e cosa ci riserva il futuro televisivo di luciana littizzetto luciana littizzetto dopo la criticata lettera alla rai arriva in mediaset da maria de filippi luciana littizzetto raddoppia dopo l'annuncio del passaggio in discovery con fazio luciana littizzetto ha deciso di accettare una nuova sfida questa volta nella squadra di maria de filippi nella trasmissione tu si che vales che ha conquistato milioni di telespettatori con le performance straordinarie dei concorrenti luciana si unirà a un cast di giudici di grande esperienza la sua presenza in questa vetrina televisiva è stata accolta con sorpresa da molti considerando il suo passato di critica tagliente verso il mondo della televisione commerciale e le sue frequenti incursioni satiriche nel mondo politico l'arrivo di luciana littizzetto a mediaset ha destato l'attenzione di tutti poiché sembra un'inversione di marcia rispetto alle sue posizioni espresse in passato tuttavia bisogna ricordare che luciana ha già avuto esperienze televisive con il gruppo mediaset in passato risalenti a molti anni fa i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo sono stati proprio sulla rete di silvio berlusconi lavorando con programmi come la jalapas e zelig quindi il suo ritorno a colonio monzese non è del tutto inedito ma sicuramente sorprendente dopo tanto tempo trascorso lontano da quel contesto la polemica la scelta di luciana littizzetto di unirsi al cast di tussiche e vales ha inevitabilmente generato polemiche e discussioni alcuni hanno espresso sorpresa considerando la sua posizione critica verso la televisione commerciale e le persone coinvolte in essa inclusa la famiglia berlusconi tuttavia come spesso accade nel mondo dello spettacolo le decisioni professionali possono essere guidate da molteplici motivazioni inclusa la volontà di espandere le proprie esperienze e sperimentare nuove sfide è innegabile che luciana littizzetto sia una figura di grande talento e professionalità nel panorama televisivo italiano la sua presenza come giudice in tussiche vales può apportare un tocco di ironia sagacia e originalità al programma rendendolo ancora più interessante per il pubblico la sua capacità di cogliere l'aspetto comico delle situazioni e la sua vero piemontese potrebbero aggiungere una nuova dimensione alla trasmissione luciana littizzetto continua a stupire il pubblico con le sue scelte inaspettate dopo l'esperienza con fazio la ritroviamo adesso alla corte di maria de filitti in tussiche vales nonostante le polemiche che possono sorgere attorno a queste decisioni dobbiamo ricordare che nel mondo dello spettacolo le strade possono essere imprevedibili e i motivi delle scelte professionali possono essere molteplici quello che conta alla fine è la passione e il talento che luciana littizzetto porta sullo schermo il suo spirito pungente la sua satira e la sua capacità di far ridere il pubblico rimangono il suo marchio di fabbrica non possiamo fare altro che aspettare con curiosità di vedere cosa ci riserverà luciana in questa nuova avventura televisiva e goderci il suo spirito unico e la sua comicità travolgente grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace e commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video notizie ciao notizie ciao notizie ciao notizie ciao notizie ciao notizie ciao notizie ciao